Ciao a tutti, sono sempre Luca, capitano dell'Italia per quanto riguarda Star Trek e 90 Min. Ci siamo, è arrivato il momento, giochiamo fra una ventina di minuti. Sono carico, sono molto carico, sono eccitato. Come ha detto Buffon, si vive per partite come questa. Non sarà una passeggiata, questo è scontato, ma non solo per noi, non lo sarà neanche per loro. Quattro anni fa è andata in maniera decisamente catastrofica per quanto riguarda gli azzurri. Oggi sicuramente, e ne sono sicuro di questo, non succederà. Perché abbiamo una squadra completamente diversa, una squadra con un'impronta difensiva, una maturità calcistica ed europea migliorata assolutamente nel corso di questi quattro lunghi anni. Oggi sicuramente si prenderà cara la pelle e sono sicuro che anche per loro non sarà una partita facile, sarà una guerra. Cercheremo di tutto, di fare di tutto per impedirgli di prenderci ancora una volta in giro. Non so se vinceremo, ma sicuramente daremo il 110%. Nel primo tempo 1-0 Italia, una bellissima Italia, una pessima Spagna, ma quel che conta è il gol di Giorgio Chiellini, l'uomo più inaspettato e ci porta in vantaggio. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. A casa Tutti a casa È finita È finita Incredibile Gli ottavi Abbiamo passati noi Abbiamo andato a casa La Spagna Campione d'Europa Di 4 anni fa Ci siamo vindicati Per una finale persa Con 4 gol di scarto L'avevo detto Non sarebbe stato facile per loro E alla fine inescono con le osse rotte Abbiamo vinto noi Ha vinto il gruppo Ancora una volta Ha vinto Antonio Conte E adesso E adesso ci divertiamo Siamo lì Possiamo solo ballare Buffon 7 Si guadagna un gran voto in Pagella Grazie ai suoi interventi sul finale Soprattutto su Piqué È il calciatore che più ci crede E si meriterebbe di alzare la coppa Sotto il cielo di Parigi Capitano Mio capitano Chiellini 7 e mezzo Come contro la Svesta È il migliore della retroguardia Ma oggi Oltre a non concedere nulla Sblocca anche il risultato Mai bello da vedere Anche sulla rete Che fa godere tutta Italia Ma l'importante È essere efficaci Bonucci 6 e mezzo Altra partita di ordinaria amministrazione Ma Leo è sempre concentrato E con Michiellini È impegnato a non far segnare gli spagnoli Ci riesce pure Barzagli 6 e mezzo La difesa non può che essere pienamente sufficiente Si vede poco Ma non importa Quello che conta È essere passati Florenzi 6 e mezzo Corre E corre tanto Molto meglio a destra che a sinistra Non fa assolutamente rimpiangere che Andreva L'esterno di centrocampo perfetto Per il gioco di Conte Giaccherini 7 Questa volta Uno dei migliori La chiave tattica del modulo di stasera Un po' mezzala È un po' esterno offensivo Gli spagnoli non capiscono mai i suoi movimenti Come sul gol di Chiellini Dove lo zampino È di Giaccheregno De Rossi 7 Che bella partita di Daniele Peccato solo per l'uscita anticipata per infortunio Speriamo di recuperarlo Perché davanti alla difesa È importantissimo Parolo 6 e mezzo Come al solito Uomo invisibile nella costruzione Ma ago della bilancia Per l'equilibrio tattico È il giocatore che ha corso di più in assoluto Ad Euro 2016 E non me ne stupisco affatto De Sciglio 7 Finalmente una pazzola animatia È nel ruolo in cui siamo più scoperti in assoluto La fascia sinistra cerca padrone E il numero 2 Si candida prepotentemente per il posto a titolare Eder 6 e mezzo Si mangia un gol incredibile Suttacco illuminante di Pellè Ma mince la novantesimo È ancora più bello Pellè 7 Che leone Lotta come un gladiatore nell'arena È nel momento in cui sembra più stanco di tutti Trova il 2 a 0 Giocatore Prima punta Ideale Per il 3-5-2 di Antonio Conte Motta 6 Il voto più basso è suo Ma non riesce mai ad incantare e ad accendersi Difidato Prende il giallo e salta la prossima Poco male Ma De Rossi deve recuperare Insigne 6 e mezzo Il 2 a 0 nasce da una sua apertura illuminante Entra bene in partita Darmian Senza voto Troppo poco per giudicarlo Quel momento imbarassante In cui dimentichi Che l'assist a Pellè per il 2 a 0 Ha servito proprio il povero Darmian E quindi un senza voto Non è assolutamente una valutazione per lui Mi dispiace Matteo Non l'ho fatto apposta Conte 7 e mezzo Nulla da dire Vero Top player della nazionale italiana Top player dei sottotitoli